Due gli squalificati, Piacentini e Bombaggi, sette gli infortunati, Birligea, Lasic, Minelli, Valentini, Soprano, Cappa e Di Matteo. È lunga la lista degli indisponibili nel Teramo che domani affronterà il Bonolli Stilcatanzaro. Partita difficile per il valore dell'avversario, i calabresi occupano la quarta posizione anche se nel turno infrasettimanale di mercoledì hanno perso in casa contro l'Avellino che comunque è secondo. Il tecnico biancorosso Massimo Paci però non vuole alibi. Sì, mancano tanti giocatori, però veramente lo dico in massima onestà, ho la massima fiducia di chi domani scenderà in campo perché poi 11 giocatori più altri giocatori che entreranno validi ce li abbiamo per competere, quindi rimango molto sereno. In chiave tecnica mi aspetto una partita difficile per la caratura tecnica dell'avversario. Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno fatto una squadra veramente forte e quindi domani sarà una partita difficile per noi. Questo conta poco, la difficoltà della partita, perché poi saranno le motivazioni che faranno la differenza. Il Catanzaro all'andata è stata una delle poche squadre che veramente ci ha messo sotto. Adesso il periodo per loro è diverso, vengono da buoni risultati, vengono anche da una sconfitta. Comunque è un buon periodo per loro, stanno bene fisicamente e mentalmente. Quindi credo che ci saranno delle difficoltà come c'erano all'andata, ma questo è normale. Però credo tanto nelle motivazioni della nostra squadra, perché questo è un momento importantissimo per noi. Fondamentale, abbiamo dieci partite e abbiamo dieci ostacoli da superare per arrivare all'obiettivo dei play-off. Non vogliamo che nessuno ci rallenti, non vogliamo che nessuno ci porti via il nostro obiettivo. Dopo nel calcio è sempre difficile vincere, però sono molto convinto che faremo il massimo. Quella di domani per il Teramo è la prima gara di un trittico d'alta quota. Dopo Catanzaro, la trasferta di domenica 14 a Catania, quinto in classifica, e poi il match casalingo di mercoledì 17 contro la capolista Ternana. Come dire, dieci giorni di fuoco. Questo il probabile undici bianco-rosso. Lewandowski in porta, a presidio Vitturini, Trascianiti, Etichetta e Tentardini. Santoro e Arrigoni saranno i due play. Ilari Mungo e Costa Ferrera alle spalle di Pinzauti, dirigerà Marini di Trieste.